Il corso di laurea in scienze biologiche alla Politecnica delle Marche vi permetterà di acquisire le basi teoriche operative e utili in diversi ambiti della biologia che vanno dagli aspetti cellulari, molecolari e strutturali alla biodiversità dei microorganismi e degli organismi animali e vegetali, ai meccanismi dell'ereditarietà e dello sviluppo, alle interazioni ecologiche all'evoluzione e infine alle applicazioni nelle biotecnologie e nel settore biomedico. Il corso prevede 20 esami, attività pratiche di laboratorio e tirocinio. All'inizio studierà le materie di base come matematica, fisica, chimica che sono essenziali per poter poi affrontare le discipline più strettamente biologiche. Il corso è rivolto a chi è interessato ai differenti aspetti della biologia, alla biodiversità e all'ambiente, alla loro conservazione, allo sviluppo delle biotecnologie, alle tecniche di analisi biologiche e strumentali finalizzate da attività di ricerca, di diagnostica, di monitoraggio e di controllo nel settore industriale, biosanitario e della biologia ambientale. I punti di forza del corso in scienze biologiche offerto dalla Politecnica delle Marche sono la qualità dei docenti e la qualità delle loro attività di ricerca. Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente è stato infatti selezionato da UNUR come Dipartimento di Eccellenza per la Qualità della Ricerca. Potrai svolgere il tirocinio e le attività di ricerca in laboratori attrezzati con le più moderne infrastrutture come il MASBIC dedicato alle proteine ricombinanti, il laboratorio di microscopia avanzata e i laboratori acquari per la sperimentazione. Fra gli altri punti di forza la possibilità di svolgere esercitazioni pratiche in moderni attrezzati laboratori didattici o in campo, di frequentare seminali tenuti da esperti e di svolgere tirocini presso strutture esterne. Inoltre potrai trascorrere un periodo all'estero con i progetti Erasmus e Campus World, scegliendo fra 45 diverse sedi universitarie. Quali sono i risultati attesi in termini di occupazione e di crescita? I nostri laureati possono naturalmente proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale, ma anche accedere fin da subito alla professione di biologo junior che permette loro di lavorare in laboratori di analisi biologica ambientali, sia pubblici che privati, nelle industrie e negli studi di ricerca.